E questa mattina si è svolto a Roma presso il Ministero del Lavoro l'incontro convocato dal sottosegretario Claudio Cominardi sulla vertenza di Talpizza, presenti SICOBAS, le categorie alimentari e del commercio di CGL e CISL il prefetto di Modena Maria Patrizia Pava e l'ispettorato territoriale del lavoro presente anche la deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Scarica ha lanciato la proposta di contratti diretti tra lavoratori e appaltanti per dare pari dignità a tutti non hanno preso parte all'incontro i Talpizza e le società in appalto Evologica e Cofamo, Confindustria e la Will Trasporti